Non ho vissuto il vaso... No, stai cadendo. Eh, lo so, ma fai schifo. Lo faccio spugnare in bocca perché non fumo più. Allora metti questo in bocca. Sì, ho capito, per levarvi il vizio. Per levarvi il vizio, eh. Eh, quello è terribile il vizio. Tu fuma. Sì. Tu lo vuoi, vizio? Vorrei. Vuoi provare anche questo? Ma che schifo! Ah... Ah...